17 sindaci su 17 per lanciare un chiaro messaggio alla regione in difesa degli ospedali di Dolo, Mirano e Noale. Qui sono presenti tutte le persone più responsabili del territorio e facciamo una richiesta che per noi è fondamentale è che questa ASL non ci siano i tagli previsti dal recente provvedimento regionale. 153 posti letto non possono essere tagliati a questo territorio. Noi siamo sempre stati l'ASL più penalizzata, abbiamo il più basso indice posti letto per abitante quindi questi tagli proprio per noi non possono essere attuati. L'immagine di 17 sindaci, 17 su 17, penso che possa essere un'immagine forte e un messaggio forte verso i rappresentanti regionali che devono poi scegliere come gestire questa problematica. Sono due ospedali che hanno bisogno, ambedue, di funzionare bene e di avere posti letto sufficienti per dare risposta ai cittadini quindi è per questo che siamo qui tutti i 17. Non è che se si ripristinano i posti a Dolo e poi si tolgono a Mirano o viceversa la situazione può funzionare. No, la situazione può funzionare se ambedue gli ospedali hanno le dotazioni previste nel 2016 e per quanto riguarda un'area particolarmente delicata che è la materno-infantile sicuramente avere due primariati potrebbe dare una maggiore risposta al territorio. I sindaci hanno voluto incontrare la cittadinanza nei tre ospedali per spiegare la loro presa di posizione e le richieste alla regione. Ciò che spaventa della non esistenza più della lungodegenza è cosa troviamo al posto di. Quindi sicuramente ci sono delle situazioni di pazienti che possono trovare una soluzione alternativa in questi altri posti, strutture intermedie. Ci chiediamo naturalmente se tutte le situazioni possano trovare una risposta senza la lungodegenza perché è chiaro che stiamo parlando poi di posti letto che hanno un altro tipo di assistenza sanitaria.